La nostra idea di impresa è un'impresa innovativa che ha due obiettivi principali migliore qualità del servizio a minore prezzo per il nostro tipo di progetto serve un gruppo di persone competenti che abbiano passione verso questo tipo di mestiere sono David mi chiamo Iregna sono Roberto i costi sono dettagliatamente e analiticamente esposti nel business plan validato per promuovere la nostra impresa pensavamo di puntare sulla pubblicità i social network associazioni eventi pubblici